Il settimanale Spy rivela che la showgirl argentina non sarebbe stata più innamorata del pilota di MotoGop tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone davvero finita. Il settimanale Spy rivela che la showgirl argentina non sarebbe più innamorata del pilota di MotoGP. A chiudere la relazione, durata due anni, sarebbe stata lei, secondo il settimanale di Gossip. L'annuncio della rottura tra i due era stato dato da chi? Adesso a spiegare i motivi a Spy.Belena, 34 anni appena compiuti con una festa privata a Milano, avrebbe quindi capito di non amare più Iannone, anche se quest'ultimo sembra sempre follemente innamorato di lei. I rapporti tra i due però sono ancora buoni, almeno a quel che si legge, infatti, il pilota avrebbe ancora le sue auto nel parcheggio dello stabile dove vive Belen.